È stato inaugurato domenica in via Ogolino Dazzu Baldini il nuovo centro di ascolto e accoglienza della Caritas Diocesana dedicato alla memoria di Monsignor Tarcisio Bertozzi e gestito dall'associazione Farsi Prossimo. Il nuovo centro, operativo in realtà già dal 28 settembre, attualmente mette a disposizione servizi di ascolto e di distribuzione viveri, docce e bagni, ambulatorio medico e corsi di lingua italiana, mentre invece sono in fase di allestimento i dormitori anche in previsione dell'emergenza freddo e in futuro vi sarà anche la possibilità di ospitare famiglie in tre piccoli appartamenti. I servizi in più sono sicuramente la possibilità di accogliere famiglie in emergenza abitativa, quindi ci sono all'interno di questa struttura due appartamenti che sono divisibili in tre, al massimo si possono accogliere tre nuclei di famiglie che si trovano in difficoltà, e sono stati sfrattati o comunque non hanno la possibilità di avere un alloggio. Entrano all'interno di questa struttura dei servizi che erano dislocati al di fuori, che sono la mensa, che si trovava al di fuori del centro di accoglienza, il servizio vestiti, lo sportello vestiti, che si trovava anche sul di fuori. La mensa si trovava nel locale di Sant'Ippolito e il servizio vestiti si trova nel locale di Sant'Agostino. Ad oggi quante sono le persone che usufruiscono appunto del centro d'ascolto e d'accoglienza? In genere abbiamo un numero di persone di circa 800 persone in un anno, e ogni giorno entrano nei locali del centro d'accoglienza circa 30 persone, ci sono circa 30 accessi al giorno. Probabilmente questi 30 accessi aumenteranno perché adesso stiamo pensando agli accessi senza la mensa. Essendoci anche la mensa saranno ancora maggiori gli accessi qui. Mentre invece indicativamente proprio le persone che usufruiscono dell'ambulatorio medico, che mettete a disposizione? L'ambulatorio medico fa circa ogni anno dai 400 alle 500 visite, e relative prescrizioni o piccole medicazioni. Ormai siamo a fine dicembre, si sta attenendo l'arrivo del freddo intenso, di quando le temperature andranno sotto zero, come sarà la gestione dell'accoglienza? Cercheremo di far fronte alle esigenze delle persone che si trovano in grave emergenza, che dormono fuori o dormono in stazione o nei ripari di fortuna, attraverso l'attivazione del nuovo dormitorio che c'è qui nel centro d'accoglienza e continuando a gestire la vecchia sede. Lì abbiamo 11 posti, qui ne avremo 8, e inoltre chiederemo alle parrocchie un impegno per affronteggiare eventuali maggiori richieste. Quindi ci aspettiamo di avere una possibilità di 22 posti letto per persone in grave difficoltà. Ecco, 22 posti letto che normalmente sono sufficienti per accogliere punti bisognosi durante l'inverno? Normalmente le nostre richieste si attestano su questi numeri, dai 15 ai 20 posti. C'è una quota di persone che non si rivolgono ai nostri servizi, non chiedono aiuto e cercano di gestirsi da soli.